È sabato ma anche oggi le ruspe sono in azione perché da qualche giorno sono iniziati i lavori di demolizione dell'asilo primo maggio. Questo è un asilo particolare, qui perse la vita il piccolo Tommaso D'Agostino di soli quattro anni. Sarà di nuovo scuola quest'area ma verranno eliminate tutte le criticità e le problematiche che purtroppo hanno anche portato a quel tragico incidente. C'è un processo in corso, ci sono degli indagati, 7 febbraio appuntamento per l'udienza preliminare. Da qualche giorno sono iniziati i lavori di demolizione e ricostruzione dell'asilo primo maggio a Pile. Al suo posto ci sarà una scuola dell'infanzia per 120 bambini, 60 per le due sezioni dell'infanzia e 60 per il nido. A novembre del 2025 dovrebbero terminare le lavorazioni per un quadro economico di 3,3 milioni di euro. Risorse del PNRR e un nuovo polo scolastico sviluppato in due livelli indipendenti che sarà finalmente sicuro. Si andranno a rimuovere diverse problematiche. Non è una scuola normale, è l'asilo dove il 18 maggio del 2022 perse la vita il piccolo Tommaso D'Agostino di soli quattro anni, travolto da un ato lasciata parcheggiata da una mamma sulla discesa con un figlio a bordo. Tommaso e i suoi compagni erano a giocare nel piccolo giardino quando l'auto ha travolto lui, uccidendolo e ferendo altri compagni in modo non grave. Tante le domande dopo quel drammatico fatto ci si è chiesti come potesse una cancellata messa alla meno peggio stare davanti a un piccolo parco, come le macchine potessero entrare in quel cortile. Da quell'incidente sono cambiate molte cose. I dirigenti, ad esempio, non hanno permesso più a nessuno di entrare nei cortili. Una tragedia collettiva e nessuno ancora riesce a dimenticare. C'è un processo in corso volta ad accertare le responsabilità che vede coinvolti la donna di 39 anni alla guida della Passat che si è sfrenata, scesa per riprendere gli altri figli a scuola lasciando il maggior in auto. Monia Lai, dirigente scolastica, Bruno Martini, responsabile del servizio prevenzione della Mazzini, Antonello Giampaolini, responsabile del settore edilizia scolastica e del comune. L'immobile risaliva agli anni 80. Da decenni la zona interna era di vita a parcheggio, non essendoci altri spazi fuori. Le accuse sono a vario titolo. Deve essere ancora fatta l'udienza preliminare che fu rinviata. Si farà il prossimo 7 febbraio.